A quasi un anno dalla scomparsa di Nanni Balestrini, 20 maggio del 2019, voglio ricordare il suo romanzo Una mattina ci siamo svegliati, dedicato al 25 aprile, ma un 25 aprile particolare, quello del 1994. Sappiamo che Balestrini non racconta. La sua tecnica narrativa è quella del montaggio, in questo caso di spezzoni radiofonici, della radiocronaca di Radio Popolare, della giornata di quel 25 aprile quando una folla immensa sotto la pioggia si riversò su Milano. Non solo non c'è un io narrante, ma c'è una molteplicità di narratori, talvolta occasionali, talvolta radiocronisti, talvolta intervistati di passaggio, alcuni senza nome, altri con un'identità ben precisa. È il flusso indistinto delle parole di una collettività che si raccoglie senza gerarchie a Milano, per rimarcare il valore del 25 aprile, momento nel quale l'Italia democratica guarda al passato per costruire il futuro. È un coro di voci. L'oralità ha il sopravvento sulla scrittura, 160 pagine senza un segno di interpunzione, discorsi senza un'apparente coerenza, continue interruzioni anche improvvise. Parla annunziata Cesani per tutti la ceda, partigiana di Sesto San Giovanni che ci ha poi lasciato il 23 maggio del 2013. Racconta della condizione delle donne lavoratrici durante il fascismo senza alcuna tutela in gravidanza. Ecco che si passa bruscamente poi a un collegamento con una stazione. Le donne invece lavoravano fino al momento del parto perché non c'era nessuna legge che le tutelasse. Bene grazie, sono le 10.24, suono un telefono. Sono Claudio dalla stazione di Porta Romana, il corteo è sceso dal treno. Tre voci ben distinte nel procedere fluido del parlato. Alla stessa stregua nel medesimo flusso di parole ascoltiamo Massimo D'Alema che scandisce i valori del 25 aprile intesi come libertà e democrazia minacciati da chi vorrebbe, dice, annegarli in un passato indistinto nel quale non si capisce più da che parte stava la ragione e da che parte stava il torto. Il montaggio della radiocronaca consente anche di tornare, mediante il ricordo di alcune voci del coro, ai giorni che hanno preceduto il 25 aprile 1945. Ascoltiamo in collegamento dall'ex prigione nazista di Via Tasso a Roma Settimia Spizzichino, poi morta a Roma il 3 luglio del 2000, deportata ebrea italiana ad Auschwitz e unica donna supestite alla razzia del ghetto di Roma del 16 ottobre del 43. Settimia racconta la sua esperienza ad Auschwitz, così come più avanti assistiamo in collegamento diretto da Marzabotto alla rievocazione del massacro del settembre 1944. Ed è qui che il radiocranista Andrea spiega che a Marzabotto la resistenza fu un fenomeno veramente di popolo, nel senso che dal parroco della piccola pieve al professionista, al negoziante, tutti proteggevano i partigiani, fino a quando, tra il 29 e il 30 settembre del 44, i nazisti, aiutati dalle brigate nere, cominciarono a rastrellare la zona dove operavano divisioni partigiane. È il coro del 25 aprile, del 25 aprile 1994, una moltitudine eterogenea presente in piazza perché sente di doverci essere. La plurivocità indistinta della radiocronaca consente di rappresentare le gesta di una collettività alla presenza viva di una collettività ulteriore. Si tratta di una narrazione epica, nata dall'oralità come fu l'epica omerica, ma di un'epica di ritorno si tratta, che muove da un'oralità di ritorno rispetto a quella che ha generato l'epos antico e che consiste nel rendere tutta la frammentarietà, la simultaneità, la contraddittorietà, la ridondanza dei flussi di comunicazione dei nostri giorni. L'autore, il narratore, sono così sostituiti dai rumori e dalle voci del proprio tempo. Se il testo di Balestrini si presenta dunque coerente con la propria tradizione di narratore, nella tecnica del montaggio, nel rifiuto di ognuno narrante, nel corrocarsi tra scrittura e oralità, tra epica e tecnologia, certamente riesce a rappresentare mediante una tecnica espressiva, prima ancora che un contenuto o il significato profondo del 25 aprile o di quello che dovrebbe essere il 25 aprile, ovvero la festa della liberazione, la liberazione di un popolo che ha lottato per la propria libertà e che costantemente ne rivendica il diritto. A Balestrini il merito di aver garantito questa vicinanza tra letteratura è storia non per via ideologica ma per via linguistico-stilistica. Quello di Balestrini è un 25 aprile corale nel quale tutto il popolo riconosce la genesi del proprio riscatto e al tempo stesso non vuole commemorare ma costruire un paese diverso ispirato alla lezione di quella lotta contro la dittatura. Quello stesso anno Balestrini scriveva un'introduzione alle opere di Ugo Foscolo. Foscolo era per lui un coraggioso combattente per la libertà, l'archetipo dell'intellettuale che volle essere non più parassita di salotto ma capace di esercitare una funzione autonoma basandosi unicamente sulla forza del proprio ingegno e sul coraggio della propria passione. rifiutò la sudditanza al potere e fu il primo a rendersi conto della necessità che siano direttamente gli italiani a lottare per la loro libertà. Verso la fine della radiocronaca rappresentata da Balestrini intervengono un ascoltatore e un'ascoltatrice anonimi che si soffermano sulle ragioni per le quali in corteo non ci siano bandiere italiane. Il primo dice ho visto tante bandiere rosse e tanti striscioni ma ho visto poche bandiere italiane cioè secondo me il 25 aprile deve essere una festa per festeggiare la vittoria di un popolo perché io penso che il 25 aprile non ha vinto un partito, non ha vinto un colore ma ha vinto l'Italia, ha vinto un popolo che rappresentava gli ideali di giustizia e libertà. L'ascoltatrice riprende il discorso. Pensavo all'ascoltatore di prima che diceva che c'erano pochi tricolori in piazza ma forse non si è accorto che non abbiamo più neanche quello ma voi andresti in giro oggi col tricolore? Perché tu dici che l'ha rubato forza Italia? Certo insomma in anni sessantotteschi non si andava in giro col tricolore perché non si riconosceva la nazione ma soprattutto perché il tricolore se l'erano mangiato i fascisti e ci sono voluti anni e anni perché la bandiera nazionale qualcuno cominciasse a riconoscerla come una cosa non targata politicamente. Poi adesso tu dici che se l'eri mangiata Berlusconi secondo me sì ma tu non sei di quest'idea per me noi non l'abbiamo più io mi vergognerei a uscire col tricolore ma io spero che non sia proprio così però è interessante come problema. Pensateci, pensateci, ciao e pensiamoci anche noi e forse capiremo perché un altro grande poeta del 25 aprile Alfonso Gatto nella sua celebre poesia 25 aprile non ci ha detto quale fosse il colore della bandiera nella quale l'amico ucciso dai fascisti Eugenio Curiel avrebbe voluto essere avvolto. Se la bandiera rossa è emblema della sua adesione al socialismo e poi al partito comunista clandestino o se la bandiera italiana che era nel simbolo del fronte della gioventù che ebbe in Curiel l'ispiratore. La bandiera di Curiel voleva essere il simbolo di questo 25 aprile corale come lo è il romanzo di Balestrini nel quale si inverasse la sua idea di continuità tra l'anima foscoliana madre del risorgimento e quella popolare unitaria della resistenza nella speranza in una nuova Italia libera e democratica. La chiusa angoscia delle notti, il pianto delle mamme annerite sulla neve accanto ai figli uccisi, lullato nel vento, nelle tenebre dei lupi assediati con la propria strage, la speranza che dentro ci svegliava oltre l'orrore e le parole udite dalla bocca fermissima dei morti. Liberate l'Italia, Curiel vuole essere avvolto nella sua bandiera. Tutto quel giorno ruppe nella vita con la piena del sangue. Nell'azzurro il rosso palpitò come una gola e fummo vivi. Insorti con il taglio ridente della bocca, pieni gli occhi, piena la mano nel suo pugno, il cuore d'improvviso ci apparve in mezzo al petto. Grazie a tutti.